Altri utiliti che sono state inserite all'interno dello slate sono i Select Object by Materials Io posso selezionare un materiale e posso dirgli quale oggetto ha applicato questo tipo di materiale In questo caso l'oggetto se è un gruppo deve essere aperto perché altrimenti lui non lo riconosce Quindi Group Open, seleziono questo elemento e gli dico Select Object by Materials E lui automaticamente mi dice che questo materiale è stato applicato ai bracci e ai Lotus 7 Quindi gli dico Select, entro all'interno della viewport, isolo l'oggetto e lui mi indica effettivamente che sono stati applicati questi elementi Poi ci sono anche altri materiali che sono presenti all'interno della scena Quindi abbiamo dei materiali cromati per le gambe e così via Quindi questa è una delle utility Adesso faremo un esercizio per mostrarvi un'altra utility Quindi questo gruppo lo esplodiamo Group Close and Explode, così non è più presente questo gruppo E gli diciamo anche Unfreeze All, così seleziono lo sfondo e gli dico Hide Selection Ok, questo per selezionare tutti questi elementi Ed con un unico movimento Tasto del mouse Convert to Eritable Poly Perché ho fatto questo? Perché facciamo un esercizio per creare un oggetto multi-sub-object L'oggetto multi-sub-object viene creato tutte le volte che io ho un oggetto che è creato attraverso una serie di elementi Che hanno applicati ad esempio già dei materiali come in questo caso E sono uniti in un unico oggetto Per fare questo, nell'esempio Utilizzo la funzione Attacca, Multipla E seleziono tutti questi elementi Attaccio Lui mi fa una serie di domande su quelli che sono gli d'indirizzi dei materiali Lasciamo le impostazioni di default in modo tale che Tutti gli oggetti hanno dei d'indirizzi di materiali diversi E rispettano quella che è l'applicazione originale del materiale Questo vuol dire adesso che io all'interno della scena ho un unico oggetto Che posso muovere, posso recentrare magari il suo pivot se si è spostato Perché quando si uniscono, diciamo, si spostano Ed ecco qua il mio unico oggetto Ok? A questo punto, Anide All Se voglio rivedere anche lo sfondo, magari lo seleziono Gli dico ancora Freeze, Selection, così non lo tocchiamo Questo per ricordarvi che all'interno dello slate Adesso Io cancello questi elementi cance Seleziono questo elemento E gli dico Material, Get From Selected Ok? Ho all'interno un materiale multi-sub-objet Questo materiale multi-sub-objet Giustamente mi sta dicendo Guarda che nel canale 1 abbiamo un materiale Che è il materiale applicato a quelli che sono i braccioli Nel canale 2 del materiale multi-sub-objet Che è questo, abbiamo quelli che sono gli elementi riferiti alle cromature Poi abbiamo altri tipi di metalli nel canale 3 E abbiamo la plastica nel canale 4 Infatti quando io faccio il render Di questa immagine Troverò un'immagine con tutti questi materiali applicati Se per caso io inserisco una serie di canali in più Come ho fatto in questo momento Qui abbiamo un canale che si chiama 6 Qui abbiamo un altro canale che si chiama 7 E qui abbiamo un altro canale che si chiama 5 Questi sono dei canali che sono ancora liberi Che possono essere utilizzati Sono dei canali che però occupano spazio Infatti se non sono utilizzati direttamente sopra il materiale Quello che lui mi può dire con questo tipo di utility Quindi se ho tanti materiali direttamente all'interno di questa scena È il Clean Multi Materials Clean Multi Materials mi dice Guarda che all'interno di questa scena qua c'è un materiale Che si chiama 39 Ed in questo materiale ci sono degli elementi che non sono utilizzati Sono presenti ma tu li stai utilizzando Diciamo come consumo di memoria e basta Quindi con ok Lui va a ripulire il materiale Chiaramente questi materiali rimangono direttamente all'interno dello slate Che posso anche eliminare Quindi posso cliccare di canci, canci, canci Selezionarli e cancellarli